Tesla, Tesla, tutti parlano di Tesla, del nostro Elon Musk, ne parliamo pure noi. C'è un'importante novità da parte di Tesla. Tesla ha completato in America il suo configuratore online, presentando tutte le versioni di Tesla Model 3. La Tesla Model 3 è l'auto che Elon Musk ha presentato circa tre anni fa e che dovrebbe essere l'auto per tutti. E sul sito della Model 3 troviamo le due versioni della Long Range, in versione integrale è la Performance. E queste sono le due versioni presenti in tutti i configuratori Model 3 europei. Andiamo sul sito della Tesla americano. Qui troviamo le quattro configurazioni, la Standard, la Standard Plus, la Mid Range e la Long Range. E le due versioni di Long Range disponibili sui configuratori europei, con trazione integrale e Performance. Confrontiamo le batterie, l'autonomia, la velocità massima, l'accelerazione e i prezzi della versione della Model 3 a trazione posteriore, presenti sul sito statunitense. E poi proviamo a calcolare i loro prezzi in Europa e in Italia. Abbiamo ben quattro versioni da configurare, la Standard, la Standard Plus, la Middle Range e la Long Range. La Standard ha 50 kWh di batteria, una autonomia di 350 km, 210 km di velocità massima, un'accelerazione di 5,6 secondi ad un prezzo di 35.000 dollari. La Standard Plus invece ha 55 kWh di batteria, 380 km di autonomia, una velocità massima di 225 km di velocità massima, un'accelerazione di 5,3 ad un prezzo di 37.000 dollari. La Middle Range ha 62 kWh di batteria, 420 km di autonomia, 225 km di velocità massima, un'accelerazione di 5,2 secondi ad un prezzo di 40.000 dollari. E infine la Long Range ha 75 kWh di batteria, 520 km di autonomia, 225 km di velocità massima, 5 secondi di accelerazione ad un prezzo di 43.000 dollari. Questi sono i quattro modelli di Model 3 con ruote motrici posteriori. Adesso proviamo a calcolare che prezzo dovrebbero avere nel mercato europeo. Per farlo facciamo delle proporzioni, rapportando i prezzi europei di due modelli a versione integrale con quelli americani e calcoleremo in base a questi i prezzi che dovrebbero avere in Europa le Model 3 a trazione posteriore. I prezzi previsti per la Model 3 in Europa sono 42.000 euro per la Standard, 44.400 per la Standard Plus, 48.000 per la Middle Range e 50.800 euro per la Long Range. Se calcoliamo gli incentivi con rotamazione, nel mercato italiano diventano 36.000 per la Standard, 38.400 per la Standard Plus, 42.000 per la Middle Range e 44.800 per la Long Range. I tempi di previsione probabilmente non saranno lunghi. Tra qualche mese i configuratori europei potrebbero già avere le quattro varianti della Model 3. E forse la risposta di Elon Musk al famoso cartello pubblicitario di Hyundai che recitava You turn, Elon, è già arrivata. Di certo Elon Musk ce l'ha fatta mantenere la sua promessa di un'auto, Tesla, a 35.000 dollari. Anche se sono passati tre anni, ma la sfida non era facile. Di sicuro c'è un punto da evidenziare, che i media italiani sono abiti nel dare dello spazio all'auto elettrica e fare capire al grande pubblico che cos'è effettivamente questo tipo di tecnologia. E ovviamente, ancora di meno, danno spazio a Tesla o a Elon Musk e alla sua storia. E forse questo è un argomento di cui ce ne dovremmo occupare. È un vero peccato comunque che Elon Musk non abbia un suo spazio nei media italiani. Perché è un tipo di imprenditoria più vicina alle esigenze reali e alle problematiche che ognuno di noi vive ogni giorno. Il marketing oggi prova a chiedere ai clienti che cosa vogliono e crea un prodotto. Ma in verità i clienti hanno bisogno di qualcosa. Inol. A stedile increasing temperature. So, we've already increased by 2 degrees.